Visto che qui hanno disegnato tutti i ponti e tutti i pesci, allora in questa scena facciamo passare sopra le macchinine, disegnate tutto in stile un po' infantile, il ponte poi hanno disegnato in tantissimo, uno, due, anche qua c'è un altro, collegato in Europa, anche questo qua, guarda, questo bisogna fare delle bellissime, con la barchetta sopra, il mare, tutti i pesci, anche i gabbiani, ho provato anche la foto dove si disegna il ponte, praticamente. Questa è un'altra cosa, e poi arriviamo a storyboard, è questa scena qua, dove loro sono nel traghetto, nel traghetto, dove si vede all'inizio tante persone che camminano con l'erotoscopia, ma si fa ripresa, non vede all'uomo, queste cose qua. Grazie. 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 Grazie.